Siamo qui per la terza parte della partita tra Imbianchini e Mastini, il doppio vantaggio dei Mastini è stato rimontato dagli Imbianchini, ora il parziale dice 4 a 3, la partita è emozionantissima, è nervosa, è cattiva, è maschia, è Lucio Verona dell'opinione, ancora Giazzetta, scende palla al piede Giazzetta, attenzione ancora Giazzetta li vuole scartare tutti, si innamora della palla e la perde, ancora Giazzetta, vuole dare un'altra rimessa laterale, Montuori, tiro, attenzione, Celestino, ancora Montuori, può far scendere palla al piede, Montuori, attenzione, Meola prova il tiro, non va, ed è anche angolo, calcio d'angolo, del tutto in aspettato, la palla è alta, attenzione ancora Celestino prova a domesticare un pallone difficilissimo il portiere, pazzo, tiro nel te, nel te di Celestino, nel te, c'è il poker di Celestino, ed entra uno che non c'entra niente con la partita Giancotti prova il tiro, non va, mancano tre minuti, attenzione ancora Guarino, puttio rischia tutto, sportiere, ancora Giancotti in mezzo a due, prova il numero 8, metterla per Celestino Dio, stavo a provare, il gollonzo del secolo, il gollonzo del secolo, il gollonzo del secolo, Paolo, ma che partita che sta facendo, sono ancora Meola, Carletto ha trovato lo spacciatore niente male, uno spacciatore niente male per Cuccaro, si lamentano, i bianchini si lamentano per l'arbitraggio che potrebbe essere giudicato scandaloso, la palla è per Meola, sono Giazzetta ancora, prova a gestire questo pallone, Meola, ancora Giazzetta, ancora calcio d'angolo, Capone e ovunque, c'è nel calcio d'angolo, ancora Giancotti prova il tiro, non va, ancora calcio d'angolo per gli bianchini, Giancotti di punta, prova il tiro, non va, portiere che sicuramente non è stato tra i migliori in campo, attenzione ancora Giazzetta, Giazzetta ancora, attenzione ancora Giazzetta per la rimessa laterale, prova in mezzo Giancotti, prova il tiro ancora Guarino ancora Giancotti, si trascina la palla fuori attenzione dagli spalti arrivano contestazioni per Cuccaro, il pubblico è veramente infermente attenzione ancora la palla, non va incredibile ancora Meola, Giazzetta, Giazzetta tiene palla Giazzetta in mezzo, Giancotti, rete, rete di Giancotti, esultato mei, uno più recupero Carlo, uno più recupero, due minuti, due minuti più recupero verso sette minuti due minuti attenzione ancora, del Duca rischia la vita, del Duca rischia di morire, ancora Giancotti, ci credono gli bianchini, ancora Giancotti, ancora Giancotti, è credibile, è cosa è successo, Giancotti, incredibile, Giancotti, Giancotti sta riportando in alto in bianchini, una partita senza fine, una partita senza fine, una partita senza fine Carlo, 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 Carlo morisce perché Giancotti si toglie la maglia da regolamento non mi ha dovuto credibile, gran schema se ne si ripete la battuta ancora Celestino prova il tiro Giancotti messa laterale per gli bianchini attenzione, rischia tutto alla difesa numero 8, spazza Giancotti ovunque ancora Giancotti palla dentro rischia un gol difficilissimo e finisce così finisce 5-5 questa partita nel segno di Giancotti e di Guarino lui grazie Grazie a tutti.